Dopo aver visto come guadagnare su Instagram come influencer e questo è il modo migliore per poter guarire la battuta che mi fa sempre il mio grafico quando vado a trovarlo vi voglio spiegare come guadagnare su Instagram come attività di ristorante, di bar o attività di boutique Va bene boutique, che dite? Prima di proseguire voglio farvi una domanda Quanti di voi hanno fatto pubblicità su giornali, riviste, quotidiani, cinema, traghetti Quante persone realmente sono venute da voi e vi hanno detto io sono venuto da te perché ho visto la pubblicità sul traghetto, perché ho visto la pubblicità sul cinema Secondo il mio punto di vista si possono contare sulle dita, massimo, ma massimo di due mani È molto semplice, c'è bisogno delle tre C fondamentali Continuità, contenuto e calcolo La continuità su cosa si basa? Si basa su pubblicare un post al giorno in continuazione sulla propria pagina Instagram Il consiglio classico che viene dato è pubblicare un post al giorno su Instagram per non essere troppo invasivi Questa è una regola che io non la consiglio a tutti Io consiglio sempre di essere se stessi su una pagina Instagram Mi spiego meglio Se noi abbiamo un'attività e vogliamo essere delle persone interattive e farci pubblicità con il nostro profilo Noi non dobbiamo limitarci soltanto a pubblicare un semplice contenuto Dobbiamo pubblicare sì la nostra foto quotidiana che va a riguardare magari un piatto tipico nostro Ma bisogna nello stesso tempo coinvolgere il pubblico a casa Scegliere una descrizione adatta in modo tale da creare dei commenti Creare una risata Trasmettere un qualcosa che appunto va a creare un determinato interesse Secondo il mio punto di vista si possono pubblicare anche tre post al giorno Non c'è un obbligo che ci dice che bisogna pubblicare un solo post Non due perché Instagram si basa su un determinato calcolo Che se pubblichi più di un post la gente si perde poi si può scocciare Il sistema funziona che se io sono una persona che ha messo un follower a Caterina Ha deciso di seguirla Vuol dire che a me interessa il suo prodotto La sua tipologia di cucina Allora che cosa succede? Succede che pubblica il post la mattina perché Caterina fa le colazioni per esempio E vedo che cosa mi offre per la colazione E sta per arrivare l'ora di pranzo Scoro su Instagram e mi esce di nuovo Caterina per esempio Tra tutte le migliaia di fotografie che io sto scorrendo Che ha pubblicato un piatto di pasta E mi viene fame magari vado a mangiare da lei Viene la sera e vedo Caterina che ha pubblicato di nuovo un qualcosa riguardante la cena Magari non vado a mangiare Magari prendo spunto per cucinare la sera qualcosa di simile Ma nello stesso tempo che cosa è successo? È successo che per me Caterina Ristorante Caterina è diventato qualcosa di importante Qualcosa che mi dà delle informazioni Non per forza una al giorno Anche più se si ha la possibilità e la capacità di poterlo fare Se si è bravi e si è dei proprietari magari anche social Perché no? Entrare in quel mondo e avere un contatto diretto con il cliente Poi ancora meglio se si è dei grandi personaggi Perché no? C'è un grande proprietario che è un personaggio Si mette e si veste in maniera particolare tipo così E fa delle storie con questo cappello E saluta i suoi clienti Gli dice ragazzi oggi a pranzo Facciamo, prepariamo, pasta e patate Saluto da Gigione e da Catarina Un esempio molto semplice Questo è un modo per fare pubblicità Per mostrare quello che si è realmente Essere se stessi Non creare una montatura Affinché poi quando arriva il cliente all'interno del vostro ristorante Non ritrova quello che è realmente Il cliente deve ritrovare quello che c'è Il cliente deve rispecchiarsi in quello che è Instagram Ovvero se io trovo dei piatti presentati in un modo Pretendo che quando vengo da te il ristoratore Mi arrivi allo stesso identico modo Automaticamente cosa si fa? Si investono dei soldi per una crescita personale In modo tale da crescere sempre di più come azienda Crescono gli utenti che ci seguono Cresce automaticamente la nostra mole di lavoro Tutta una conseguenza che ci porta appunto a una crescita continua Questo semplicemente con la continuità Con il metodo della goccia cinese Se così lo vogliamo definire Il secondo elemento fondamentale è il contenuto Perché il contenuto è importante? Instagram è un social che si basa soprattutto sulle fotografie Quindi è importante mostrare un contenuto di assoluta qualità Perché tramite delle fotografie che magari non sono studiate in un determinato modo Non vengono presentate in un determinato modo Si rischia di trasmettere un'immagine sbagliata Magari uno di voi mi dice Allora Jacopo vi ha già chiamato un fotografo Beh le opzioni sono varie Se si ha un'azienda dove si ha la possibilità di investire Su determinati professionisti che può essere un fotografo Un social manager Perché io ho tramite questi social un ritorno economico elevato E mi permette di poter prendere queste figure professionali È giusto investirci Nel caso in cui parliamo di una boutique Parliamo magari di un piccolo ristorante Che vuole crescere Inizialmente non può permettersi un grande investimento Che cosa fa? Fa dei piccoli investimenti Che può essere magari un cellulare nuovo Una gestione della pagina in modo parziale Può essere magari delle consulenze Che lo aiutano a migliorare Nella crescita professionale Nella crescita della pagina Tutto una serie di piccoli passi Che poi sicuramente Se l'investimento è fatto bene Portano a una crescita E successivamente ad una scelta Ovvero magari una scelta Di prendere una persona Che curi soltanto Quell'aspetto Pensate che in Inghilterra Oltre il 60% delle prenotazioni Avviene tutto tramite Instagram Questo vi fa capire Che il social Instagram commercialmente È una grande potenza Una grande possibilità di crescita È tutta una questione di iniziare Quello che è più difficile appunto È il cominciare a provare Questa tipologia di esperienza Il terzo punto fondamentale È il calcolo Il calcolo perché Instagram A differenza di Facebook Si basa fondamentalmente Su un calcolo numerico Ogni profilo ha una potenzialità Di azione Può compiere all'incirca 1500 operazioni giornaliere Che possono essere Like tramite commenti Tramite follower Tramite unfollower Tramite commenti di storie Tutta una serie di azioni Che permettono al profilo Di scalare sempre di più In beta In modo tale da apparire In continuazione sulle home page In modo tale da Sempre in primo piano Questi sono gli elementi fondamentali Per la possibilità Di crescita di Instagram Per fare questo terzo punto Già diventa più complicato Qua c'è bisogno di tempo C'è bisogno di applicarsi Di andare a cercare Potenziali clienti Di andare a vedere persone Che possono essere interessate Al nostro prodotto Qui si va Su un punto Più complicato Un punto che richiede Uno studio Attento E un'analisi Attenta del territorio In cui ci troviamo Tutta questa serie di operazioni Vi porta automaticamente A che cosa? Vi porta a un aumento di follower Vi porta a una crescita del profilo A una crescita dell'azienda Quindi automaticamente A una crescita Di clientela La cosa importante Non prendere mai Dei follower falsi Perché sono totalmente inutili Mai affidarsi A sistema di follower Che da un mese a un altro Vi fanno arrivare Da duemila A ventimila Perché sono Assolutamente irreali Ma questo è il risconto Che ritroverete stesso voi Cioè stesso voi Vi renderete appunto conto Che il profilo Instagram È un profilo inattivo Cioè non verrà nessuno Nel negozio da voi E vi dirà Senti io ho visto questo capo Voglio questo capo Come vi rendete conto Se il vostro profilo è attivo? Quando verrà gente da voi Col telefono E vi dirà Voglio questo Perché io sono venuto da te Perché ho visto su Instagram Che tu hai pubblicato questa cosa Lì vi rendete conto Allora lì avete un profilo attivo Lì avete un profilo Che sta crescendo Spero di essere stato chiaro Sotto tutti i punti di vista Mi dispiace che purtroppo Il video si è allungato Ma per spiegare queste cose C'è bisogno di tempo Se una persona è realmente interessata Lo guarderà fino alla fine Un grazie Da Jacopo Reggine Ci vediamo al prossimo video